Lei è Meg. Meg è il direttore operativo di un punto vendita di fama mondiale che si occupa di dolciumi e vorrebbe che più clienti potessero appagare i propri desideri di gola. Meg sta prendendo decisioni solamente in base ai dati relativi alle transazioni, ma non ha considerato un elemento fondamentale dell'equazione. Si domanda, quanti consumatori effettivamente entrano nei miei punti vendita ogni giorno? Quali sono le ore di punta? I miei punti vendita dispongono di sufficiente personale? E qual è il rendimento dello staff? Meg sa dove può trovare le risposte. Si rivolge a ShopperTrack per via delle sue globali e accuratissime soluzioni contapersone e conversione. ShopperTrack sfrutta i dati su traffico, vendita e forza lavoro per aiutare i retailers come Meg a capire quante persone entrano nel punto vendita, in che misura il personale le trasforma in acquirenti effettivi e se il punto vendita ha personale a sufficienza tale da garantirne il successo. Meg scopre che il 76% dei suoi clienti non acquista nulla. Capisce anche che le ore di punta non sono quelle che pensava fossero. Meg non ha abbastanza dipendenti che possano coprire l'intero flusso e di conseguenza i consumatori non si convertono in acquirenti. Meg è pronta ad agire. Lavora insieme ai manager regionali per pianificare congiuntamente le attività al fine di migliorare il customer service e la conversione. Iniziano col modificare i turni di lavoro e inseriscono più dipendenti durante le ore di punta per far sì che ogni singolo cliente riceva assistenza. Poi spostano tutte le attività non inerenti alle vendite, come gli approvvigionamenti e la manutenzione, ai periodi meno trafficati. Dopo solo otto settimane, Meg e il suo team notano un grande cambiamento. La conversione è aumentata di tre punti percentuali, il che significa un miglioramento del 12,5% nelle vendite degli spazi commerciali dello stesso settore. Questa è proprio una dolce ricompensa. ShopperTrack fornisce informazioni sul contapersone, consentendo a Meg di incrementare il traffico, la conversione e il volume delle transazioni. Scopri come ShopperTrack può aiutarti a ottenere gli stessi risultati.